Mario e Dario Tarnetcout 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 Lars Hansson Mario e Dario Tarnetcout E mi devo leggere chiudi la bocca Ma chiudi la bocca tu ti infilo il c***o dentro la bocca Pezzo di merda che non sei altro Ovviamente non nella realtà Ma soltanto se sei consenziente Non farei nulla del genere Ah certo KG Prime Che mi scrive stai zitto Mario per un chat da Dario Perfetto Eccoci qua Che dicevi Mario alla mia chat? Che gli ficcavo il c***o in bocca a quello che mi ha detto di stare zitto Beh in realtà ha detto tutto giusto Perché? Tutto giusto ma che ne sai te Comunque Dai te se stai zitto fai intrattenimento a best Perché il teatro Sì sì Il mimo Il piano d'ascolto si dice Non il mimo Il mimo è proprio un personaggio a parte Ascolta Prima di cominciare il nostro Il nostro incredibile Che è sta cosa? Ti stai addormentando Non ho manco iniziato Dimmi 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 tutto Mario Sono qui apposta per te guarda Sì ma tutto questo entusiasmo Per che cosa? Sei entusiasmato? Sì Sì È un modo per dire che ti sono mancato No No è perché ho ritrovato Una tua nonna freschissima Dopo la tua visita Era contentissima Che ne sai te? Spocca ponci anche di traverso Spocca ponci? Stai dicendo che mia nonna fa i p***i? Non c'è niente da ridere Non toccare non toccare mia nonna No È lei che tocca a me Io che ci devo fare No invece non è vero Pure questa è una bugia Va bene dai Non indaghiamo oltre Anche perché siamo qua Per provocare delle enormi risate Alla gente che ci sta guardando Ma stai zitto coglione Eh? Sì sì no Divertimento amici È di te No che mi hai detto Stai zitto coglione adesso No no e c'è qui il Masella Fa sempre Dai fammelo vedere Scherzo Mase Dimmi di Dario Non stavo male No Non parla così il Masella Eh? Non è così Non parla così il Masella Sì è lui Aspetta Non parla a comare Si voleva Io un po' Nessuno Però ho visto che bella nonna C'aveva Che c***o bello ciondone Poi è bello Gliela messo un c***o Quella nonna Almeno ha goduto A differenza Mase Non sei tu che stai insultando mia nonna Vero? È Dario che ti sta imitando Non sei a casa di Dario Non sei allo studio con Dario Vero? Me lo confermi? Grazie Adesso vediamo se veramente è il Masella A insultare mia nonna in questa maniera Oppure sei te che stai imitando il Masella Ma sei già Ti stai già preparando Per fare la voce del Masella fuori campo Ti sto guardando Pagliaccio Sa che ti ha risposto il Mase Guarda un po' L'ho sentito che rispondeva Mario Sono il Mase C'è te e sono nello studio Sono nello studio Sì Sono qui a far accompagnare Dario Dario mi ha inviato un vocale dal tuo account Dal tuo whatsapp No è perché lui c'ha il cellulare scarico Gli ho preso dal mio Ti stai divertendo Sei te Dario Il Masella mi rispondeva col suo messaggio Comunque si faceva vedere in live Come si è sempre fatto vedere Da quando tu hai l'account su Twitter Cioè quando passa si fa vedere tranquillamente Pazzo Monsterina del doc Mi sto incazzando Mi sto incazzando 46 7 7 times World Champions 8 times World Champions Non mi ricordo Il doc Rossi Valentino Vado anch'io Vado anch'io a fare la pipì Prima di Talent Scout Dario Se mi dai il cambio A quella cosa che ho fatto prima E cerchi di portarmi rispetto Mentre non sono in postazioni Con i ragazzi In chat Grazie Homosexuality Va bene Se potessi fare una marcia in meno No perché puzzo Aspetta un attimo Arrivo subito Ok Allora praticamente ragazzi Prima di andare Gruda Non l'ha detto prima Non l'ha detto Gruda Aspetta Questa piccola rubricchetta Pezzo di merda Ti avevo chiesto per favore Di trattarmi bene Quei simpoli che trovi in chat Che vogliono due o tre sabola Li butti dentro le tue cose No perché tanto sai Che ti leccheranno il culo a me No 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 Ascoltate ragazzi Io ho fatto teatro Si vede E' un coglione Vabbè questo si è un coglione Vabbè comunque A parte questo Perché i due ragazzi Non si stanno mettendo la cam Giusto per curiosità Il ragazzo e la ragazza Ah è la ragazza Andiamo a stuzzicare Un po' il palato Anche degli Eh sennò qua sono c***o Tramelle Basta no E via Basta Eh basta No ragazzi Ma è possibile Che nessuno trovi strano I movimenti inconsueti Che fa il collega mio qua Cioè Aspetta che ho fatto Ecco qua Allora vai Nessuna risposta Guarda Guarda Bestemmi tutti i santi del paradiso No Allora ragazzi Innanzitutto Allora Andiamo un po' a capire Chi siete voi Di scrivervi Chi siete Da dove venite Che cosa fare Qua su Allora Io e Fabio Siamo di Milano Elena invece è di Firenze E ci ospita Quest'estate in vacanza Ti prego Quindi da Milano Che cosa No dai Tira dentro la lingua Noi facciamo un tweet per farci invitare in vacanza dalla gente E questo è il nostro scopio Scrocco Capito Sei di Firenze di Provo Centro oppure no? Io per studio Stavo a Firenze Ora sono altarenante Vado a studia mia Poi torno a Firenze Di Firenze Non ti vieni a cercare No 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 Ma te ti dico Firenze Tipo dove sei Di Fiesole No no Io sono la casa In centro Ah in centro Cazzo Lava Questa è fortunata Bellissima C'hai soldi Elena Era una botta da Dario Dai Chi era quello? No che botte sono sposato Che c***o Ragazzi No Assolutamente no Allora Voi non aprite la cam L'ho chiesto prima Mario No ma io non voglio togliere successo lo streamer Lo streamer è Emerald Io sono L'aiutante nelle ombre Emerald È tipo il mio Mario Questo qui che non sta mettendo la webcam Ma tu Lui è il mio supporto Il mio moderatore Il tuo orbiter Possiamo dire No come nel caso di Ok Ma tu sei Emerald Che ha giocato la pill Chi? Beh Perfetto Cioè c'è un Emerald Che ha giocato la pill Tu non hai giocato la pill C'è un altro Emerald Penso proprio di sì Poi un mio clone Ma probabilmente sono io il suo Non lo so Più provabile E perché E perché questo Nick Diciamo prezioso No Splendente È ricominciare la spiegazione No È un misto di due cose in realtà Ok Emerald è un po' lo smeraldo E a me piace il colore verde Volevo metterlo dentro È del tutto lo smeraldo Salvini? Vega No È del tutto lo smeraldo Emerald Quindi Emerald è un po' smeraldo E poi Poi taxi È quello che rappresenta Il viaggio La sua serie preferita Su Pornado Vabbè È un po' una gag Anche va bene È un po' una gag È un disghie Si fa per ride Comunque Siamo toscani Vabbè Anche se non siete toscani Si fanno le cose per ridere Vabbè Tu sei ancora fermo Però come mi insegna Elena Qua in chat In chiamata I toscani Gli scherzi Che stanno fa meglio No Per esempio Elena Ti avrai sparato A qualche passante Ogni tanto Per ridere Su un piede Su un arto Arto Tutti i giorni Srella Ok Posso fare una domanda Io Mario Sturniolo Allora Per tutto piacere La domanda per Emerald È È soltanto una Vai Quando Quando Perché non chiudi il canale No No Lo stai chiedendo a me No ma Mario Ha un profondo rispetto Per tutti quelli Che non siano poli Allora No vabbè Anche per poli ho rispetto Ma stai zitto Una volta tanto No ma Anch'io Devo fare la domanda Cosa tu Il tecnico di Milano È il poli mi Ah il poli mi Bravo Una domanda È un applausi per Emerald Taxi Immagino Vai Mario Allora Senti Quando tu Hai saputo Che volevamo Farti questa intervista Per sapere delle cose Tu ovviamente È stato solledicato Il tuo animo Del divertimento Ma questo No No Quello è un dito Ficcato in cul Dai Dai Ti prego Siamo mai Va bene Scusatelo Se vi dà fastidio Potete anche dire Mi dà fastidio Non è che siete obbligati A subire Tutte le cose Che fa Mi sembra scontato Questo No Oh Stai parlando Con me o con Dario No no Tranquillo Allora La domanda è questa Buttana di Eva Ascoltami Emerald Quando tu Hai saputo Di questa intervista No Buttana di Eva Hai 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 Pensato a che tipo Di divertimento Potessimo portarti Cioè Quale parte Della tua curiosità È stata stimolata Magari Questi due Sono fenomenali No Non lo so Non lo sai O sono fenomenali Sicuramente Siete fenomenali Però Non so Neanche il resto Non so Ma Emerald E' perché hai iniziato A fare i tweet Contaci un po' Domanda cantata No in realtà No voglio di uscire di casa Vabbè Quello senta Tu Io sono un po' Sono un po' Un orso da Da Un po' di agorafobia Scusa Scusa Tu Con chi stai parlando Tu Io No no Parlo con un ragazzo Che ha fatto Cioè ragazzi Soltanto uno Ha parlato Col proprio palmo Della mano Qualche secondo fa Cioè Quello lì Va bene Dici Emerald Splash Ora divento Passo Nasce Nasce tutto Cerca penso Dieci anni fa Ma quando ero piccolo Ho sempre avuto Questa passione Per i video Per youtube Così no E quindi mi sono sempre divertito A fare qualche piccolo video Un po' di magia O video stupidissimi Che non vedrete mai Questo spero siano cancellati Nel dimenticatoio I classici video divertenti Per mettere il link Va bene Ma è vostro amico Questo fabbrica entra? Non entra Mario No No però vabbè Come però vabbè Cioè Chi c***o è questo? Volevo sapere Sono pupassi al bomber Mario Oh yeah No Non voglio puparlo Al bomber Scusami Emerald È un tuo follower Sì Non lo so Ma come non lo sai Emerald Ma non lo so Ma ragazzi Ma non lo so Ma voi siete streamer Ma voi siete streamer professionisti Ok Si può dire professionisti Io Io sì Io sì No no Anche io sono streamer professionista Pure io Allora Sto morendo di caldo Mia mamma è già rinforzata Di abbassare la voce Il pc Butta dentro mamma un attimo Butta dentro mamma Potresti invitare tua madre un attimo Per lo streaming Però fratello sì E no No il fratello non ci sta nella camera secondo me Che cosa vuol dire? Che è un po' grosso però Ma mamma c'è Volevo parlarci Ma perché sta dormendo Poi raccia Volete dormire? Adesso Adesso penso di sì Adesso Ok ci sta Ci sta Ciao ragazzi Sono la mamma Ciao Ciao got my call Ciao Che succede? Dario la finisci inzuttare mia mamma Basta Scusa Vi conviene scendere sotto Tanto siete 5 Così non avete interruzioni Che succede? No 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 Ci andiamo magari Che succede? Mario Sono entrati fan di Emerald No Questi sono i tuoi Mi hanno detto Coglion Allora Però Emerald Mi stai raccontando Te fasce delle parodie su YouTube Ah è vero Sì Poi Sono dei piccoli video così Diciamo E mi è sempre tutta questa cosa Però Non ho mai Continuato la carriera In maniera seria Su YouTube Ok così Poi diventando un pochino più grande E scoprendo la piattaforma Twitter Non proprio subito Subito Un pochino dopo Ho detto Beh dai È una bella esperienza Comunque Faccio già le cose Che faccio normalmente A casa con i miei compagni O via dicendo Esco già poco di mio Perché o fa troppo freddo O fa troppo caldo Esco solo O in primavera O in autunno Le altre raro Fatelo fuori Fatelo fuori All'inizio non c'era Un vero format In realtà Ok Era giusto Un talk Anzi no All'inizio Abbiamo già cominciato Con Pokémon Unite Pensa te Ma Qua c'è Boh Un po' di nicchia Era un po' di nicchia Comunque non è che tutti lo conoscevano All'inizio Dai stai zitto Per favore Chiudi quella c***a di bocca Scusa Emerald Prego 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 Ho capito Capito la situazione Era un po' di nicchia Era comunque Anzi io penso Di averlo scoperto Direttura Prima di molto Che magari l'hanno portato Perché comunque Dal giorno 1 L'abbiamo giocato Vero Fabio Sì dal giorno 1 Sì sì ma Anche dallo 0 E poi E' vero Perché c'era anche La beta Prima del rilascio Come qualsiasi tipo di videogioco C'era beta Prima del rilascio Sì sì no esatto Esatto E quindi abbiamo cominciato con quello Per Comunque è facile Ma poi l'altro Ti l'hai continuato a giocare Con tutti gli aggiornamenti Pokémon Unite Poi l'ha interrompito Alzati Non ti si vede più Hai esagerato con Alzati Poi Pokémon Unite Lo giochiamo ancora Ma non lo streamiamo più Perché io ho il Giochiamo da telefono Che è l'iPhone 8 Ce l'ho da tipo 9 anni Questo qua E adesso Si surriscaldi In maniera disumana Quindi E' impensabile Portare il gioco Che poi comunque Disumana Con una macchina Ci potrebbe anche stare Cioè è coerente Che si surriscaldi In maniera disumana In quanto In quanto telefono cellulare No? Ma che cazzo Il commento è Mario? Scusa Dicevo che hai visto disumano Nel senso Oltre l'umano Ho sbagliato? Boh A Milano Disumano si dice Eh Tu sei a Milano Emeraldone Milano Sei? Sei? Più o meno Sei di Milano Più o meno Milano Laghetto Ditlo dai E vicino Saronno Con un'area un po' più conosciuta Non lo so E come si chiama precisamente Il posto per i più affezionati Di Saronno Eh Cogliate Il di Saronno Lo fanno a Saronno L'amaretto di Saronno Viene fatto a Saronno Che è incredibile È l'origine È accogliato Allucinante No no Mi sembra allucinante Mi sembra una cosa Culturalmente interessante Dai Ok Eh Emeraldone Chi hai mai avuto La voglia Di provare la cocaina A sprazzi A sprazzi Ma di no Di no Ma di no Ma sei pazzo Ma di no Dipende da cosa Ma se prima hai detto A destra a sinistra La paola di bala Hai detto Hai detto a sprazzi Dipende Ma da cosa Dipende Di no Di no Ma che dipende Da cosa dipende La cocaina Sono una persona Estremamente curiosa Ma Non ho parlato Di giganteschi forni Manco Franco Non ho menzionato Si ferma Quando inizia l'intelligenza Mio padre E dai E dai Hai fatto partire Un applauso Per una cosa Che hai detto tu Facciamo un piccolo saluto No 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 Stamattina ho spinto Una 500 Comunque Te lo stanno dicendo Nella chat Ci sta Va bene Vabbè comunque Emerald Qual è il tuo vero nome? Andrea Andrea sei molto simpatico Hai un sorriso Per tutti Ma questo sorriso Nasconde anche Una double face Cioè il carico Della gioia Un rovescio Della medaglia E double face Cioè Un divano Un giulino Un giulino Cioè Veramente Il copritivano Devo dire Il rovescio Della medaglia Cioè Te la pongo meglio C'è Un Un lato Più amaro Più oscuro Più fraselli Del nostro Andrea No 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 Tu non mi puoi criticare I double face E puoi dire Faselli Pezzo di merda Adesso parte La lotta a parte Vai Comunque Ma no Parlava di noi Mi chiedono anche Di mia nonna Mario No no Lascia stare È una delle donne Più belle Non l'ha mai Che è successo? Che è stato? La nini in casa Ci avete Mi sa No penso Dicevi scusami Andrea Scusa Scusa per il casino Innanzitutto Però dimmi Dici un po' Sono una persona Dici un po' di cose Simpatica Ed espansiva Modesta Come potete sentire E modesto Assolutamente modesto Ah e poi Sono un po' furbetto Ma solo con le ragazze E basta Sono un giovanni Di la verità No peggio Più furbetto Più sotto sotto Azz Schizzo le puppe Non è una cosa Non sono che si Proclama in pubblico Fa grandi atti In pubblico Più Sotto sotto che lavora Vai sotto il pugno Lo ammazzate a sto dumbo Per favore Chisco Amiche Ascolta Ascolta Emerald Mi dici L'ultimo trucchetto Da furbetto Che hai utilizzato Ti sei ripreso te? Sì sì L'ultimo trucchetto Trucchetto Dai per favore Riguardati L'ultimo trucchetto Utilizzato Con queste ragazze Con cui divanti tanto Ma che c***o C'hai? Pronti? Ci tocca Ci tocca svelarlo così Davanti a tutti Tocca Per forza Per favore ragazzi Iniziamo da un quarto d'ora Emerald Per favore Rispondi alla domanda Che stai guardando Che stai guardando Resta concentrata Almeno te Che sta facendo È lunga È lunga eh Però è lunga eh Dai dai Cominciala Così è più corta Col tempo Ci sei? Aspetta un attimo Dario Aspetta un attimo Aspetta un attimo Dario Per me è l'ideale Di uscita Ok La migliore Che potesse Succedere No Dario Non ce la faccio Dai Non ce la posso fare Dai veramente Dario Resisti Però Ascolta Facciamo così Emerald Se lo vedi Se lo vedi ridere Comunque tu continua Altrimenti Vedi vedi Anche il fatto che resiste Non ha senso Hai ragione Andiamo avanti Andiamo avanti Hai ragione No come stavo dicendo prima appunto Il mio top di uscita Come prima No bro bro Così no Ma signora Signora venga qua un attimo No Ho le cuffie Non ti sento No è impossibile Un timing del genere Scusa Ma come cazzo Hai fatto Ma è veramente entrata tua madre In questo momento Si Falle entrare Non sto comando col muro Falle entrare Falle entrare No no dai Che vada a letto Che vada a letto Che vada a letto Dove riposare Io ci tengo Vada in cucina No Ma dai Allora possiamo ricominciare da capo Questo trucchetto che fai con le ragazze No Adesso mi dici che Che c***o era quel sì Che c***o ti ha domandato tua madre a quest'ora Che ti ha domandato tua madre Mi raccomando vai a letto Vabbè Quello è scontato Andrai a letto No Tu No Questa È una domanda Cioè hai perso Hai perso metà cervello In questi cinque minuti Sei parlare ancora Dario Sì Sì Sto aspettando la risposta di Emerald Su trucchetto delle ragazze C***o Riassembliamoci Il trucchetto delle ragazze di Emerald Emerald ti prego di non fermarti Esatto Qualsiasi cosa succeda Vai Hai ragione Allora come stavo dicendo Secondo me la migliore uscita Per come sono fatto io Che non piace tanto uscire È invitare la ragazza da me A vedere un film Ok E stare in cameretta Ok sul letto Perché A non piace uscire B mi piace il contatto fisico Ok quindi Per me è la migliore uscita No Melchiling Ok tranquilla Vai 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 Continua Mi piace proprio così Che se tu dovessi chiedere ad una ragazza Che sia di persona O le scrivi sui social Ti va di venire da me a vedere un film Difficilmente ti dirà di sì Ok Come prima uscita È un po' difficile È difficile Poi non so cosa conoscete voi Però è difficile Allora qui entra in gioco Questo trucchettino Ok Vai Le viene proposto un gioco Ok Dove uno dei due Sceglierà La location dell'uscita Cosa farete Mentre l'altra persona Invece Aggiungerà tre regole Tre regole Che vincoleranno Quella uscita Ok Le regole non hanno limiti Ok Può essere così di cosa Può essere tipo Non so La regola No vestiti Mi devi chiamare Non so Un esempio E la terza Non so Devi vestirti Un esempio Un esempio O la seconda Devi vestirti di blu Ok Tre regole Che uno vuole Qualsiasi Ok Quindi io Propongo alla ragazza Questo gioco E gli chiedo Preferisci scegliere Le tre regole O cosa fare Durante L'esterna Dove organizzarla L'esterna Ovviamente Che cazzo Era puntata Domini e donne Si manda Per dire L'uscita Ah Dici un esempio L'appuntamento L'appuntamento No Allora Ovviamente Sappiamo tutti Che le tre regole Sono molto più Potenti Ok Rispetto a Cosa fare Durante l'esterno Ok Quello chi se ne frega Può essere un posto Qualsiasi Mentre le tre regole Ma l'esterna Sei un malato Vabbè Mia mamma Mi ha condizionato Negli anni Mi ha condizionato Come bambini e donne Tutto qua Allora cosa fai Le proponi Se vuoi scegliere Le regole O cosa fare Durante l'esterna Ovviamente Lei Impaurita Da cosa potresti fare Tu Con le tre regole In mano Sceglie Io mi prendo Le regole E tu Caro Andrea Scegli Cosa possiamo fare Sì però Andrea scusa Ma non gli puoi Devi sputare Nel culo Come tutti No E basta No Dario Ma quello dopo viene Eh capito Questo è il momento Della Cioè Pudio meo Questo che era Eh Questo che era Ah ho capito Sei diventato un dinosauro E poi hai fatto finta Di bestemmiare Ascolta Quello che voleva dire Dario È che Ci sono tantissimi Fronzoli In questa storia Cioè Quante volte ha funzionato Questa cosa Delle regole Ti ho offeso Ben due Tre su quattro Possiamo Possiamo parlare Puoi scommettere Che la ragazza Che ti è rimasta impressa È quell'una su quattro Non toccare L'action figure Non fa così ridere Dove sei andato Niente È diventato No in realtà È rimasta impressa Ah e poi alla fine Quando ti lascia a te La possibilità di scegliere Dove andare Tu vedete Dove la porti A casa tua A vedere un film Nel letto Semplice Mentre se l'avessi chiesto Senza il gioco Non ti avrei mai detto Di sì Ma chi ti tratteta Sta cazzo Andrè Scusami veramente È così Ma che è uscita Dalla sua mente Scusa Qui abbiamo una ragazza No Elena Abbi pazienza Perché sa che Fiorentina Che si è abituata Perché facco I deficienti Ameriani E vengono Centro dia In base Le discoteche Toccati il culo Mi spieghi No Sì È pieno Firenze È piena di americane Che cercano I italiani Non c'è un verso Proprio Voglio chiederti Elena Te Veramente Accetteresti Il trivio L'inganno Le prove Da superare Modello Indiana Jones Il Tempio Maledetto O L'ultima crociata Al posto Di semplicemente Andrà a trovare E basta Non penso Che accetterei Ci vuoi parlare Infatti Del tuo fallimento L'unico fallimento Su quattro ragazze Come si chiamava Il suo segno particolare Cosa credi Che sia andato storto Così per fare Anche un pochino Di autocritica Rispetto a quello Che hai detto Avremo un cervello E no Diciamo che È rimasta Diffidente Fino all'ultimo Sul venire A casa mia È strano Semplicerà Killer Se ne fa le prove No Però io Dal mio profondo Del cuore So di essere Una persona Molto buona E che non ha Per forza Secondi fini Dai No Dai Veramente Ho ascoltato No Non hai ascoltato Hai fatto il ditino Con la faccia In quella maniera Ogni volta Che qualcuno Dice Stacca di parola Per favore Emerald Continuiamo Anche perché poi Tu magari scrivi Ad una ragazza Su Instagram Ma poi non è detto Che ti piaccia Quando viene qua Quindi non è che Dei per forza Fare magie O miracoli Ma quindi ti credi In un rapporto Duraturo O nell'amore occasionale No Sicuramente Duraturo Però se fai Staccare Non posso Durare Tu storia Andrei Ti posso raccontare Anche una cosa Di queste Tre su quattro Perché no Siamo qui apposta Dario posa quel c***o Nella sedia Dicevamo Ascolta Quanti anni hai però Perché senza questo dato È un casino Troppo Quasi 25 Non è un casino Non è un casino Vabbè Anze che cosa L'era giusta Un po' L'ho raccolta Un po' L'ho raccolta Un po' Un po' Di esperienza Ma E ti stavo dicendo Una ragazza Sono andato a prenderla Non abita lontanissimo Perché quel giorno lì Era nebbia No Però io volevo rivedere L'ho detto Vabbè Non ti faccio guidare Fino a casa mia Vengo io a prenderti E ti porto qua No no Vai 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 Puoi andare Puoi andare Mario che stava parlando Col suo psicologo Stavo parlando con te E l'ho portata qua Ok Finito Era inverno Ci siamo messi sul letto E abbiamo visto questo film qua No Cos'era? Il film Non sono un uomo Semplice O facile Big fish immagino No no Non è quello Il big fish Di cui parla Il noto film Scambiano Ah ho capito Sì sì Ma quel film è ottimale Perché Puoi fare delle piccole La ragazza Perché Dillo che ti studi prima Di guardare il film Sì sì Beh i film sono due Quelli che continuo a riproporre Perché dopo un po' L'imparia memoria Dove devi fare la gag E colpisci Colpisci forte Colpisci ovviamente E niente L'ho portata qua Abbiamo visto il film E tutto Poi mentre la riporto a casa La vedo che Un po' triste Non capivo il perché No E una certa mi fa Guarda che io non sto cercando amici Sono qua per divertirmi E quindi niente Ormai l'ho riportata a casa E è finita Poi Ci ho riprovato un po' Però lei mi fa Cioè Non mi è neanche sfiorata Di qua Di là Non mi ha fatto nulla Io ero convinto che Volessimo conoscere La prima uscita È primissima E quindi niente Quindi quell'unica volta Che invece volevo essere io A corteggiare Farmi conoscere Così E tutt'altro Non avevo capito proprio niente Segno sudiagale Dimensione del pisello Segno 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 Vergine 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 Ah Hai visto C'è un Come me Il classico Contra Ah pure te sei vergine Indovina che sono io Coglione Cancro Ma porca Mi stai uccidendo Mi state uccidendo tutti Mi hai chiamato Cancro Emerald Ecco Agnese si è messo a piangere No Vabbè ma è colpa sua L'ha fatta piangere lui È vero Hai fatto piangere Agnese Non sai cosa è successo A questa ragazza Ha avuto sei tumori No 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 Emerald ne ha avuto uno Molto grave Quello che comunque Rispetto totale della malattia Ma non ne ha avuti sei Io cancro Intendo il segno Non la malattia Ah allora ok No Non avevo proprio capito A posto No vabbè adesso Non è che sparo a zero Così Che ne so Era No Quella faccia non esiste Quella faccia è completamente inventata Presa da Liberurani E messa qua in questa chiamata Andiamo avanti Mario Cos'è che stavi dicendo Ecco mi ha fatto Per il primo Ah io sono nato il 29 agosto Te Emerald Il 30 Del 98 però Prima era il verso di un creeper All'inizio E io il 6 gennaio Quindi sagittario Non lo so No sarà quello dopo Capricorno 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 Ok Conoscevi La voce Nel senso Cosa? Capricorno Quali sono le sue peculiarità? Cioè Dentro C'ha dei piccoli Delle piccole Voglie No no Non c'entra un cazzo Non rispecchia le conformità fisiche Sono testardi Dicono i Capricorno Testardi E appassionati Appassionati o passionali Tipo? Verna Social Anche come caratteristica Importante Perché? Tira forte No non lo so No No Hai già capito Non lo so Ognuno tira come può Ma non ci posso credere Ma veramente? Ma veramente Ma è organizzato? Gli l'hai detto te? Gli l'hai detto te? No Io ho detto Come ho fatto a dire Che sono organizzato? No Non tiro Non tiro ovviamente Non sono drogato di cocaina Lo dico davanti a tutti Emerald Così per provocare Tirati giù le mutande Piscia Fuori dalla finestra Mostrandoci il culo però No no Non lo fare Emerald È una trappola Emerald Ma secondo te Ho il naso grande? E Non è grande Alla gobba Che è proprio brutta Però anche io Un naso orribile Quindi Siamo su questa barca Siamo Bisogna farsi un po' di autocritica Ok Non siamo perfetti Per semperare Dai una martellata Sì Allora a me me l'ha stortato Mio papà Ma da piccolo Ha fatto No per una cavolata Però su un bambino Fa in fretta Cioè tu parte E ti ha menato? Sì No vabbè Uno schiafo Ok Non forte Però su un bambino Poi crescendo Ha preso quella forma Ha preso È un po' storto Insomma Non si vede Ma è un po' storto Ma la f***a Cosa? No no niente Parlavo tra me e me Allora Vabbè a te Tu babbo Mario ti ci ha messo Un mefisto Manna Perché se no Non si spiega Ho notato Ho notato Che la cosa Della scatola del naso Dentro un'altra scatola L'hai presa da Gigi Proietti Certo che l'ho presa Gigi Proietti Allora Emerald Prendendo tutte queste somme Il tuo amico Completamente mitomane E tu Con questa enorme simpatia E questa voglia Di sorridere a tutti Quello che non riesce a stare È solare È solare Per un c***o di minuto Sì è solare Cosa vorresti Dare per consiglio A tutti i fratelli Che ti stanno guardando E vorrebbero Questo sorriso Come si fa A vivere con la gioia Come stai vivendo tu In questo momento Come si fa Si l'ha detto prima La pamba No Ha detto che non parla Per esperienza Quello è il modo Più veloce Sennò devi essere Un po' così Tu di natura Ma stai scherzando Io sono Io sono molto Apatico in realtà Ok Cioè poco mi tocca In realtà Quindi non Non ho troppi problemi Non mi interessa Di quello che la gente pensa Io penso di essere Il migliore Punto e basta Se vi sta bene è così Sennò Cambiate aria Però io in realtà Ho un Cioè sono vanittoso In maniera simpatica Non lo faccio mai pesare Giuro Tolta questo frangente Non lo faccio mai pesare Giuro Ok ok Ma arrivate la domanda Da fargli Ah Vai Dimmi Dimmi Se dovessi immaginare Una persona In una gabbia di squali Le immagini Con uno slippino O con Un costume Mi sono perso Mi sono perso La parola in mezzo Mi sono perso Non fa niente Non fa niente Possiamo una prossima domanda Una persona in una gabbia di squali Ah ok Dai frost La preferisci Vabbè ma non fassi domande stupide O con un costume integrale Vabbè Lasciamo fare queste domande sceme Frost Dipende da quanto è bello il fisico Ma infatti Senti Emerald Hai mai inzuppato le palle nella tempera Per appoggiarle su una tela E faccio il quadro? Ah certo Questa invece è una domanda Provo sapiente Intelligente Provo applicata al contesto Darione No in effetti No Il Il ball painting Non l'ho mai fatto Ball painting Bravo Bella Bella ripetizione Della parola inglese Bravo Complimenti Mi ha impressionato il nome Ma era impressionato un c***o Ripetuto la cosa Perché non sapevi che cosa dire Mio fratello dipinge Sì 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 Non sembra che venda molto Però No fa anche altro Poi vabbè ovviamente Ah è un hobby Eh vabbè ci sta È un hobby Senza la R È un hobby È un hobby No cosa vuol dire No Cosa vuol dire Se non vendi è solo un hobby Cioè Non può essere il tuo lavoro Se non vendi Non sono d'accordo su questo Eh no Allora Per essere un lavoro Deve esserci una retribuzione dietro Se no è un passatempo È un gioco Sì ma molti artisti Devono preparare prima Una sequela di roba Devono No è vero Farsi un bagaglio Per poi proporsi E lavorare Cioè non è che Dal primo quadro lavori Capito è più complesso No però comunque Penso che chi faccia l'artista Abbia anche un altro lavoro Finché non si afferma Penso eh No questo ci può Quello ci può stare Sì 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 certo Però Non lo vedono come un hobby Anzi vedono come hobby No no certo O come un Un mezzo per Certo Però secondo me l'artista È un po' una carriera sbagliata Perché Cioè il tuo massimo Lo raggiungi quando muori Quindi Non so chi la deve Ma non è vera sta cosa Eh sì Eh sì Quando le opere iniziano a prendere valore Quando l'artista non può più farne Ovviamente Non è vero Non è vero Eh sì così No Dai Sono Dario E poi comunque non è vero Non è vero sì Magari in tempo Ma ora non è più così Eh sì È così Vabbè ok Allora cerchiamo di trarne Cerchiamo di trarne una discussione Non è che puoi dire Non è così È così Cioè perché secondo te Dici proprio è così Secondo me Un quadro inizia a prendere Non è così Dio Scusate Non ne può più replicare Devi morire Devi morire Ma non è vero Andy Warhol l'ha fatto Dicine di quadri Tutti uguali È inventata la pompa Sì Sì Magari sul teatro Distruggiamo Bomba sul teatro Anche così almeno Anche Mario è contento Per favore Non bombardate nessun teatro Per favore Grazie Comunque Allora ringraziamo Ovviamente Emerald Emerald Taxi Per Perché il taxi Stava andando a letto In realtà Però poi si è dovuto fermare Io lo faccio per voi E per il vostro contesto Io se no Andavo già a letto No scherzo Infatti sei un king Veramente Grazie mille Per la tua partecipazione Grazie anche ai tuoi collaboratori Più stretti E Mi raccomando Sempre Stay Taunted Come sto? Grazie Mario Grazie Dario Grazie A tutti Ma chi era Le fasceva versi? A quanto pare Era H.Frost Più che altro Che fastidio Quell'altro Che sapeva perfettamente I linguaggi delle cose Un vero mitomane Grazie Frax Non te ne frega un cazzo Emerald Dario Le ringrazio dopo Stai parlando con me Hai trovato un nuovo amico In Emerald Tu ti ricordi una singola cosa Che ha detto? Sì Sì La cosa della tecnica Il nuovinello Riemula la tecnica Vediamo Ha detto che praticamente Lui lo invita Prima a scegliere il film Poi deve superare La prova delle operte No No Ha detto che Ci sono tre regole Che puoi mettere All'interno del gioco Tu a lei E lei a lui Comunque una cosa Secondo me Asciugata Ma che cazzo hai Da mezz'ora Namtab23 Fugge Amndast Gian Piero Giovani Italiano Grazie a Mamba Fraza Ico Raffaequatta Amico Vegetario Dagam Nicola Torre Scaldone Namale Rabacchi Davide Bene Un tizio a caso Spino Vecchio in vestito Cristi Fornario Trangero Aleste Dizi Gian Gian Screenplay E zio Ultrapera Benvenuto Lo del Francesco Pella padrone Mustache Table Vai Ci sono Mario Grazie anche a zio Ultrapera Benvenuto E Non te ne frega un c***o Di quello che ha detto Emerald Quindi se sei contento Dell'intervista Sei contento Del fatto Che ridevi Quando quello voceva Oppure facevi i tuoi gesti Del c***o Ma in realtà Tu non stavi facendo Essenzialmente nulla Non abbiamo incontrato Nessuno Questo ragazzo Non lo reincontreremo mai Quindi diciamo le cose Come stanno Non c'è una morale Non c'è un'etica In questa cosa In pratica è come Aver staccato la live Ma fare davanti a tutti I coglioni Per un'ora e mezza Mi spedi cosa c'è Di sbagliato In tutto quello che hai detto Non ho detto Che c'è qualcosa Di sbagliato Anzi Soltanto una cosa È sbagliata Dire che hai trovato Un nuovo amico Perché non è vero Io mi sento Molto vicino a lui In che cosa Ti senti vicino Ad Emerald Il ragazzo intervistato Nella sua speranza Ma di che cosa Brutto coglione Di che cosa Lui ha speranza Che c'è un'ora Che c'è un'ora